ad eseguirla c'è l'uscita di 5 palmi però c'è soprattutto il movimento di Andrea Bassani ben servito ovvero Bonora 5 palmi penetrazione del numero 5 aspetta il movimento di un compagno riesca a riperdere la palla va in penetrazione sicuramente c'è la numero 1 vediamo se riuscirà ad aiutare i suoi Ferri con tanto spazio da 3 punti questa veramente anche fine Ferri cerca Bassani adesso lo trova contro Rinaldi buona difesa del 1996 palla nell'angolo per Bertoglio che lettura di Bassani la lunga distanza errore questa volta il rimbalzo è della difesa ma di casa ovvero di Milano 3 con 5 palmi che è già dall'altra parte bella palla sotto ci sono altri due punti ma Milano 3 oltre a difendere Milano 3 oltre a difendere Milano 3 oltre a difendere